L'operaio ex Ilva ricoverato all'ospedale Moscati è positivo al covid-19 e giunta la conferma. Al momento sta bene, nella tarda serata di sabato ha fatto il tampone, si è sentito male durante il turno di lavoro. Si tratta, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, di un addetto agli impianti di ossigeno. Si era recato al lavoro venerdì sera per l'ultimo turno. Il controllo del termoscanner, fa sapere Lanza, non aveva rilevato uno stato febbrile. Soltanto in seguito l'operaio ha avvertito un malore, la temperatura corporea è salita fino a quasi 38 gradi. Il lavoratore è stato riaccompagnato a casa e dalla notte tra venerdì e sabato è stato isolato al proprio domicilio. A quanto si è appreso, l'operaio ha telefonato al numero 1500, riferendo alcuni sintomi sovrapponibili al coronavirus. Poi è giunta la notizia della positività. Il comune di Taranto intanto comunica che sono formamente trascorsi i termini dell'ordinanza sindacale del 27 febbraio scorso, senza che sia pervenuta alcuna informazione da parte dell'attuale gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto, dalla struttura commissariale di ILVA in amministrazione straordinaria o dagli organismi di controllo. L'ordinanza punta ad individuare gli impianti interessati da fenomeni emissivi e rimuoverne criticità ed anomalie a tutela della salute pubblica. Alla luce di ciò, fanno sapere da Palazzo di Città, ci sono 30 giorni per attuare le disposizioni sindacali per le quali si deve provvedere con apposito cronoprogramma alla fermata degli impianti inquinanti.